Continua la bagarre politica sull'infinita questione del trafaro delle torricelle. Ci mettono una pietra sopra infatti Michele Bertucco, candidato sindaco della sinistra, assieme ad Alberto Sperotto, del Comitato contro l'autostrada in città, secondo i quali l'opera sarebbe arrivata definitivamente alle battute finali. Ma a smorzare gli entusiasmi degli antagonisti è la nota arrivata nei giorni scorsi in cui Technital dichiara di aver depositato entro i tempi previsti una nuova fideicuzione richiesta dal Comune di Verona. È probabile quindi che si andrà avanti, almeno stando alle parole dell'amministratore unico di Technital, Alberto Scotti. Non è conclusa perché noi abbiamo preso degli impegni col Comune, li stiamo rispettando fino all'ultimo, gli impegni scritti, gli impegni confermati e poi se qualcuno non li vuole mantenere questi impegni non è un problema nostro. Bertucco e Sperotto fanno delle dichiarazioni politiche. Noi della politica non ci possiamo interessare, guardiamo i contratti, guardiamo gli impegni e rispettiamo quelli. C'è chi fa politica e c'è chi invece fa l'operativo. Ecco cosa ne pensano i veronesi. Penso anche dal punto di vista ecologico, sotto le tovicelle ci sono sorgenti di acqua e cose così. Non so come, geologicamente, come fosse... Tra fuori, al fondo, non disturba nessuno. Bisognerebbe vedere se sono state fatte tutte le analisi di impatto, diciamo, sul traffico, sull'ambiente, per cui se ci sono i presupposti corretti e sono positivi per la città, perché no?